Gentili tra i spettatori dei protagonisti, in compagnia, in occasione anzi dell'anteprima nazionale, in questo caso regionale, campana del film che è la sua prima opera prima, appartamentata da Atena, abbiamo incontrato il regista Ruggero De Paolo, ciao e benvenuto. Ciao, comunque Di Paola. Bravo, esatto. Già ti sei corretto da solo, Ruggero Di Paola. E l'attrice carismatica, figura regale, ammaliante, estremamente delicata. Regale? Regale. La Toscana, la... Ah sì. Un bravissimo avvocato. Augusto, se non erro, no? No, ma come fai? C'è un Augusto? Forse il nonno? Non lo sapere. Irma, invece? Accidenti, come fai ad essere così informato? Allora, laurea, innanzitutto benvenuta, dai. Allora, appartamento da Atene, appunto l'opera prima del regista Ruggero Di Paola, che ti vede in un ruolo, questa donna un po' silenziosa, che spesso ha questo sguardo anche basso, vedendo l'ultima scena, la camminata e lo sguardo mi hanno molto colpito, no? Un ruolo anche abbastanza tormentato, forse, posso dire a quello della stanza del figlio. Forse. Ah, beh, diciamo che il tormento, più che essere interiore, è concreto, è reale. Non lo definirei un personaggio particolarmente tormentato, cioè tormentato nel senso che qualcuno la tormenta. E quindi sono tutti personaggi tormentati dall'occupazione tedesca e dall'ufficiale tedesco che ha requisito il loro appartamento. Però non so se è un personaggio tormentato, non credo, ma nemmeno nella stanza del figlio è un personaggio particolarmente tormentato. È un po' anche la scena. Senti, Ruggero, allora, quest'opera prima, posso dire che la teoria è stata fin troppo discreta, affinché poi lo spaventatore rimanesse nei confini proprio di questo appartamento? Sì, in effetti appositamente, almeno dal punto di vista tecnico, ho fatto un passo indietro, evitando qualsiasi tipo di esibizionismo. Ci sono un paio di cose in effetti carine, però non esibite. L'energia discreta mi piace. E la stessa cosa direi della musica, nel senso che è una musica e, tra virgolette, silenziosa. Talmente silenziosa che quando abbiamo parlato delle musiche con il musicista, lui mi chiedeva degli esempi, dei riferimenti, eccetera, no? Allora gli ho dato il DVD di un film e gli ho detto guarda, a me è piaciuto molto tutto l'aspetto sonoro di questo film, l'ho trovato molto interessante, eccetera, ti servirà per l'ispirazione e probabilmente per l'appartamento ad Atene. E il film è Il nastro bianco, che tu conosci, hai visto? Di Aneke. Il nastro bianco è un film che non ha musica. Quindi quando l'ho visto, esatto, la prima cosa è Enzo, ha visto tutto il film, ha aspettato, si è concentrato fino all'ultimo. Quando ho visto che non c'era una nota di musica, mi hanno telefonato e ho detto, Arugema, mi devo preoccupare. Senti Laura, per usare una piccola metafora, pensando al tuo ruolo appunto di genitore, di Zoe, mi è venuta in mente questa tua voglia di ritornare a essere mamma, no? Da un anno c'è Stefano che oramai riempie anche la tua vita emotiva, oltre che interiore. Stepan, Stiopa. Essendo russo, sì. Beh, sì, certo, io ho già due figlie. Eugenia e Agnese, no? Eugenia e Agnese, ma come sei formato? Ma dove hai servizi segreti? Che poi è un'attrice, una musicista, proprio prima parlavamo di musica, no? Quanto nelle corde di queste due ragazze c'è impresso, impregnante il tuo talento? Faccio io delle domande a te. Voglio sapere qualcosa della mia vita, qualcosa che mi sfugge. Dunque, cos'era la domanda? Parravamo appunto del tuo ruolo di genitore, no? Ripercorrendo di nuovo, ecco, l'essere di nuovo mamma, no? Quanto questo equilibrio interiore ti ha dato anche ulteriore linfa per ripartire di slancio in questa tua seconda giovinezza? Qual è l'equilibrio interiore? Aspetta, dove l'abbiamo? In questa carriera che si rende sempre più fulgida, no? Il ruolo di Stepan può essere anche importante a puntista emotiva interiore per il tuo equilibrio, che per un'artista è anche importante, anche per la concentrazione sul set, no? Non lo so se Stepan ha un ruolo nella mia capacità di concentrarlo, rispetto alla mia capacità di concentrarlo. Questo non l'ho ancora... No, certamente è un... Diciamo che sono obbligata a trovare molta energia, perché poi è un maschietto, e io non lo sapevo, ma i maschi sono faticosi, io avevo due femmine. E quindi, no, uno è costretto a ridiventare un po' giovane. Ci vuole molta forza. La concentrazione, non lo so, anzi, forse un po' mi deconcentro, perché avevo voglia di stare con lui, più che di far altro. A me ti dico anche come gioia interiore. Come si fa a crescere appunto di maschi con una famiglia in cui c'erano sette fratelli? Come si fa a che cosa? A gestirsi, no? Con sette fratelli dentro casa, insomma. Ah, beh, ma noi... Bene. Nel senso che più gente c'è e più ti puoi ritagliare uno spazio per te dove nessuno ti viene... Perché è impossibile controllare dieci figli. E quindi, a parte che i miei genitori non erano particolarmente controllori, controllanti, ma in particolare mia madre quasi per niente. Però, insomma, anche a volendo, insomma. Per cui, è tutto sommato, è una situazione... Io cerco sempre quella stessa situazione nella vita. Perché a me in realtà non mi piace molto interagire. Però mi piace che ci sia gente intorno. Basta che non debba interagire. Stiamo interagendo troppo. Io direi di smettere. Si sente viva lei dentro. Comunque, in questo caso, c'è stato un periodo chiave della tua vita artistica. La Villumiere. Lo dicevo. La Villumiere, Parigi, no? Forse poteva sembrare una scelta avventata a loro. Parliamo della metà degli anni Ottanta. Invece si è rivelata estremamente profigua. Per l'ascesa tua... Per l'ascesa tua... Per l'ascesa tua profigua. Per l'ascesa tua profigua. Per l'ascesa tua profigua. Poi, un po' le parole, eh. Non sono io che sono sorda. Si è rivelata estremamente profigua. Sì, non è stata una scelta professionale. È stata una scelta... Così, avevo un marito francese e sono andata a vivere in Francia. Poi, visto che ero lì, ho anche... ho anche lavorato lì. Ma devo dire che poi è buffo perché ho fatto... Tra i film forse più interessanti che ho fatto in Francia li ho fatti dopo che ho lasciato la Francia invece che quando ci abitavo. Strano, eh? Chi ha inciso di più nell'evolversi della tua carriera artista? Carmelo Bene o Nanni Moretti? Chi ha inciso... Ma... Nanni Moretti. Esatto. No, ma... Non lo so, nel senso che... Io ero con Carmelo, ero una ragazzina e non volevo far l'attrice. Non era... La consideravo una parentesi. facevo la ballerina. Non sapevo cosa avrei fatto dopo ma non mi consideravo un'attrice. Non l'ho considerato un primo passo verso il mestiere dell'attrice. Lo consideravo una cosa a parte, così. Invece, Nanni Moretti è arrivato quando già la decisione era stata più o meno presa. Insomma, anche se... Per anni ho continuato a pensare che poi alla fine avrei fatto un'altra cosa. Ma poi alla fine mi sono dovuta... Ho dovuto riconoscere che ormai... A proposito di altra cosa, la scelta della regia, com'è arrivata? E so che sul set si è divertita molto a dirigere gli altri, non tanto a te stessa. Beh, certo. Poi tra l'altro avevo... avevo per le mani degli attori formidabili. Quindi mi sono divertita perché avevo anche un materiale fantastico. Dico materiale per dire perché in realtà era tutt'altro che un materiale. però, insomma... Cosa mi chiedevi? Non me lo ricordo più. La regia parliamo. Sì, ma di che cosa... Dici regina, no? Nel senso... Grazie... Ecco, molto a dirigere gli altri, no? Però meno te stessa a questo punto, no? No, beh, me stessa, certo. Più che altro mi vergognavo un po' di... Avevo paura che pensassero... Che potessero pensare che io magari mi favorivo e allora tendevo a tirare via quando si trattava di dirigere me perché non volevo dare l'impressione che mi curavo di più quindi forse mi curavo un po' troppo poco. Senti, Laura, in ultimo ti sto facendo uno speciale sul compianto Mario Monicelli che lui ti diresse nella doppia vita di Mattia Pascala, no? Ecco. Che ricordo hai di lui? Beh, molti ricordi di lui. Tra l'altro siamo rimasti amici con Mario sempre e quindi ci siamo anche poi visti negli anni insomma, non tanto spesso quanto avrei voluto ma parecchie volte, insomma ma io dicevo l'ho conosciuto si sarebbe potuto dire già abbastanza anziano anche se in realtà poi pensando a quanto poi ancora ha vissuto era un giovane però l'ho sempre visto come una persona molto giovane di sempre e questo l'ho detto fino a poco prima che morisse insomma per me Mario era il regista più giovane che io avessi mai estremamente tosco era alcuni dicevano che era cinico non era per niente cinico secondo me era e quindi e quindi aveva il pudore dei sentimenti quindi era uno che i sentimenti non gli esternava retto però era era una persona anche capace di grande di gesti veramente molto a parte la passione ancora civile politica che aveva che aveva avuto fino all'ultimo ma era una persona estremamente generosa e sensibile io guardando in avanti so che stai con Daniele una nuova storia no? ce l'ha in zona parioli secondo me a proposito mi ha fatto in mente il Fitch Festival si si sto preparando una nuova storia allora racconto chiudiamo con te Ruggero no? senti so che in questo film c'è anche un po' di un po' di racconto autobiografico no? se non erro non proprio autobiografico però mia madre durante la seconda guerra mondiale ha avuto un un tedesco in casa la famiglia di mio nonno da parte di di mia madre un ufficiale dell'SS che ha scelto questa famiglia perché durante la seconda guerra mondiale era una famiglia benestante aveva una macelleria e c'era questo ufficiale che aveva anche un cane a cui avevano dati i resti del gli avanzi dei 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 pasti senti posso dire che questo film sia anche presaggio per tanti eh perché ricordiamo che questa è un'opera prima non appoggiata le major no? eppure è stato il film italiano più premiato nell'anno 2012 in 51 27 premi si sono riusciti a riscuotere no? e anche può essere un volano per tutti coloro che in questo caso non hanno l'appoggio appunto di cui vi ho firmato ma questo anche senza i premi nel senso che io nel senso se una una persona ha una una storia di cui eh è convinto di 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 e la tenacia purché cosa da raccontare che lo lo emoziona così tanto perché comunque è molto difficile fare un film quindi non è una cosa che lo dico banalmente però non in 15 giorni è una cosa che dura nel corso del tempo e quindi vuol dire che la la fiamma deve continuare a ardere per molto tempo questo al di là del dei dei premi o dei festival eccetera eccetera comunque siamo contenti che il film è stato è stato premiato e e andiamo avanti primo lungometraggio no? si fa solo dei cortometraggi prima ne ho fatti sei o sette dei corti questo è il primo lungo differenze analogie difficoltà ma in effetti ho c'è un'analogia gli ultimi cortometraggi uno era una trattava era una di una madre albanese che aveva in salvo i propri figli dalla guerra negli anni e stranamente sì è sempre quello il punto di partenza o comunque il contesto è quello della guerra e l'altro invece degli ultimi due cortometraggi è un altro un altro racconto le difficoltà diciamo sono una situazione quindi un film richiede maggiore lavorazione più grande quindi ovviamente è molto più difficile realizzarlo non che sia semplice fare un corto però è molto laborioso e lunga la lavorazione signora trasmissione e chi come lei potrebbe suggerlarlo in pieno un suo saluto guardando ai nostri trattatori guardando non mi pare non mi ha ripreso com'è che si chiama ok buona serata a tutti grazie signora grazie grazie a tutti grazie a tutti